C'è la presentazione della mostra L'arte del sogno di Michel Gondry con le scenografie, gli oggetti utilizzati nell'omonimo film che uscirà venerdì 19 gennaio. Ci troviamo nello studio televisivo di TV Stefan, la TV è lo studio immaginario dove Stefano, il protagonista, prepara degli strani intugli. Il registro del film Michel Gondry. Il significato di questa esibizione non è... Questi oggetti in realtà non sono gli oggetti artisti, ma sono un modo di comunicare il film con la vita reale. Qual è il tuo nome? Stefano. Stefani? 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 Clic, 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 clic. Siamo incontri a Los Angeles. Eravamo a una festa a Los Angeles e eravamo un po' ubriati. Ciao. Questo film mi piace perché è un cinema visivo, è un cinema fantastico, quindi libertà assolutamente la fantasia. Devo dire che è vero, il film è autobiografico perché parlo di cose che sento in questo film e esprimo anche delle opinioni in miei personali. Do you have something to say? I like you. You mean in a romantic way? You will never date her, ok? She will drive you crazy.